Chioggia TV E se vorranno infierire, non hanno più alcun male da fargli, anche la fortuna ha consumato le sue forze. Quest'anno il liceo veronese ha festeggiato il venticinquesimo dell'attività teatrale del classico. Da 25 anni infatti l'istituto mette in scena la tragedia e quest'anno è stato rappresentato l'Agamennone di Seneca. Questa tragedia narra di Agamennone, sovrano della città di Micene, che alla partenza per la guerra di Troia non aveva venti favorevoli, così per propiziarsi gli dèi, su consiglio dell'indovino calcante, aveva sacrificato la bellissima figlia. I venti allora avevano cominciato ad essere propizi, così la flotta potesse alpare. Clitemestra, la moglie, aveva però deciso di vendicare il sacrificio della figlia, uccidendo Agamennone e convincendo Egisto, cugino del marito e suo amante, di aiutarla in tale impresa. Lo spettacolo è stato bellissimo. L'entusiasmo che ci hanno messo i ragazzi che hanno recitato era palpabile, anche perché la tragedia era particolarmente impegnativa. Per questi ragazzi sono stati mesi di intenso e appassionato lavoro. L'impegno merita un plauso, perché il lodevole risultato raggiunto non sarebbe stato tale se non ci fosse stata un'attenta cura per ogni componente. Dalla regia di Franca Ardizzona Rossi, alle coreografie di Patrizia Ricò, traduzione ed adattamento di Roberto Vianello, musiche di Andrea Chinaglia e il trucco alle acconciature curate da Sara Scarpa, ricordando il coordinatore del progetto Roberto Vianello. Grazie.